Ha minacciato di morte l'anziana madre per farsi consegnare i soldi per comprare l'ennesima dose di droga. Per ben due volte ha fatto irruzione nella sua casa urlando ed inveendo contro di lei, sino a che non sono intervenuti i carabinieri e lo hanno arrestato. In manetta è così finito un cinquantenne tossico dipendente. Una drammatica vicenda che si è consumata ieri a loro ciuffenna quando l'uomo già in evidente stato di alterazione psicofisica si è introdotto nella casa della madre per farsi dare soldi per comprarsi una dose. Ma la madre non ha ceduto e si è così accesa una furibondalite con urle minacce nei confronti della donna. L'anziana ha così chiamato i carabinieri che sono accorsi in pochi minuti. Alla vista dei militari il cinquantenne che abita in un appartamento vicino ha continuato ad inveire contro la donna. All'arrivo del personale del 118 la cui assistenza era stata richiesta per tranquillizzarlo l'uomo è diventato ancora più aggressivo rifiutando di farsi visitare e minacciando di morte la madre i sanitari e tutti i carabinieri intervenuti. A questo punto i militari lo hanno arrestato per resistenza pubblico ufficiale minaccia e violazione di domicilio. L'uomo è stato quindi riaccompagnato nel suo appartamento e come disposto dall'autorità giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che avrebbe dovuto tenersi questa mattina ma la misura non è stata sufficiente. Il cinquantenne nel pomeriggio ha fatto infatti nuovamente irruzione nell'abitazione della madre con l'intenzione di farsi consegnare i soldi. L'anziana anche in questo caso non ha ceduto e ha chiamato nuovamente i carabinieri. L'uomo vista l'inefficacia della misura adottata in precedenza è stato così arrestato e portato nel carcere a retino di San Benedetto.